Oggi è l'ultimo giorno, stiamo facendo la festa finale, abbiamo fatto delle sessioni di allenamento due ore al mattino e due ore al pomeriggio con la metodologia del Milan Academy. Questa settimana di Milan Junior Camp è stata una settimana trascorsa benissima, è andato tutto bene. Per quanto mi riguarda ci sono stati otto portieri. La Sicilia sicuramente, soprattutto Agrigento, ci entrerà nei nostri cuori perché comunque è stata una settimana ricca di emozioni che solo i camp riescono a dare questa cosa. Purtroppo oggi è l'ultimo giorno di questa bellissima esperienza qui ad Agrigento dove abbiamo fatto questo meraviglioso camp dove i bambini si sono divertiti ogni giorno, quindi per tutta la settimana. Il primo obiettivo del camp per noi è già stato realizzato. Oggi avremo la chiusura dove interverranno alcuni esponenti politici e insieme a tutti i genitori ci sarà la premiazione per i ragazzi di questa bellissima settimana che abbiamo passato insieme. Un'esperienza incredibile, per me è la prima volta in assoluto in Sicilia. Ho trovato un ambiente favoloso a cominciare dall'organizzazione. I bambini è una cosa incredibile, abbiamo fatto un bellissimo lavoro. Abbiamo visto il coinvolgimento totale dei bambini, è quello che ci interessava di più. E già pensiamo a quello del prossimo anno, faremo molto probabili due settimane, miglioreremo quello che c'è da migliorare per cercare di mettere sul campo ancora più bambini. Quello che è importante è avere fatto vedere ai bambini il lavoro tecnico e didattico che si fa nelle scuole calcio con dei preparatori di primo livello. Questo camp mi è piaciuto molto. Ho trovato dei bellissimi compagni e anche gli allenamenti sono stati molto interessanti. I mister sono molto gentili, è un camp bellissimo e vorrei assolutamente rifarlo. Ho fatto questo stage, è stata una bellissima esperienza, sia a livello calcistico ma anche a livello educativo. Un'esplosione di vitalità, di sport, di aggregazione, la gioia delle famiglie oltre che dei ragazzi che hanno partecipato a questo Junior Campus del Milan. Ma sono anche contento per un'altra ragione, finalmente questo spazio trova momenti di apoteosi. Dopo anni in cui ha avuto fasi alterne, gli impianti sportivi al villaggio Peruzzo tornano nel pieno della vitalità contrassegnando uno spazio aggregativo di fondamentale importanza. Grazie a tutti.